Il leader della Lega difende molto male gli interessi del suo elettorato. Da quando è all'opposizione ha collezionato così tanti macroscopici errori da diventare la stampella del governo demogrillino. La sua gestione ha sminuito la forza elettorale del carroccio che rischia di soccombere nelle prossime elezioni amministrative a Roma e Milano.Mattero Salvini si sta trasformando nel più grande alleato di Giuseppe Conte, e fornisce al Partito Democratico barra sinistra d'eterostatalista il migliore alibi per non affrontare i veri problemi del paese. Salvini continua a monopolizzare la scena con un partito che ha perso un terzo del consenso da 34% a 23%, e continuerà a perderlo senza un immediato cambio di rotta, con una serie di errori macroscopici. L'allineamento in Europa al fronte nazionale di Marine Le Pen che sarà sempre in viso a chiunque governi in Europa, soprattutto al solidissimo e inamovibile fronte di stabilità e potere europeo costituito da Francia e Germania. Una campagna anti-euro e anti-Europa antistorica e autolesionista in un contesto dove è evidente a tutti che la Banca Centrale, la Commissione e l'Europarlamento sono il salvagente unico in una tempesta tremenda. Ipotesi di cancellazione del debito o altre fantasie sovraniste alla Claudio Borghi sono palesemente senza senso, non hanno alcuna possibilità di essere realizzate senza la volontà di tedeschi olandesi o altri paesi frugali, e questa volontà viene meno immediatamente appena un italiano, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli in questo è stato pessimo, chiede nuove soluzioni che comportano spesa e debito. Come si fa a non capire che si vota anche al nord Europa e che ogni ipotesi di trasferimento di risorse finanziarie all'Italia è come fumo negli occhi per l'elettorato? Come si fa a non capire che in Germania la sola idea di cancellazione debito ha la stessa popolarità elettorale in Veneto e Lombardia di rifacciamo la cassa del mezzogiorno con massivi trasferimenti al sud di Italia? Ma chi lo vota un partito tedesco in Germania che sostiene una posizione simile? Mi sembra surreale che non venga colto. I toni continuamente urlati e sguaiati alienano una vasta fetta di elettorato moderato che infatti si muove verso la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che pur partendo da posizioni molto a destra si muove con meno aggressività e offre più rassicurazioni anche con l'affiliazione ai conservatori in Europa di cui è diventata presidente. Il ruolo di mediazione giocato da Meloni nella votazione allo scostamento di bilancio ne è evidente dimostrazione e servirà per attrarre significativo consenso proprio a scapito della Lega. Grazie a tutti. Grazie a tutti.